Al mondo succedono tante cose folli, così assurde che nessuno ci crederebbe se non esistessero le prove fisiche per dimostrarle. Per fortuna oggi non abbiamo bisogno di convincere il prossimo con le nostre parole, perché abbiamo a disposizione numerosi dispositivi tecnologici capaci di immortalare le scene più strane in modo inequivocabile. Nel video di oggi vi mostriamo 15 momenti incredibili a cui nessuno avrebbe creduto se non fossero stati filmati. Numero 15. Giornalista canterina. Quando questa giornalista è andata al lavoro quella mattina, non si sarebbe mai aspettata di dover girare un servizio in condizioni meteorologiche tanto avverse. La giornalista irlandese si è piazzata sotto un'acquazzone per descrivere la situazione ai suoi concittadini e incitare alla prudenza, ma il vento era talmente forte che si è ritrovata costretta ad urlare nel microfono. In quelle condizioni critiche non si è accorta che le sue parole stavano prendendo le sembianze di una canzone appassionata. La combinazione tra l'accento musicale e il ritmo osato per scandire le frasi, nonostante il vento. La resa famosa come la giornalista canterina più intonata al mondo. Numero 14. Fuga dal campo. Lucidare un campo da basket non è un'operazione semplice, soprattutto perché lo straccio va passato mentre la partita è nel pieno del suo svolgimento. Di solito gli addetti aspettano che le azioni si spostino dall'altra parte del campo prima di correre a lucidare il parquet. Ma questo poveretto non poteva immaginare che i giocatori sarebbero tornati subito indietro verso di lui. In una frazione di secondo l'uomo si è ritrovato alle calcagne i giocatori di entrambe le squadre ed è dovuto fuggire a gambe levate col suo spazzolone per non intranciare il corso della partita. Numero 13. Corsa sul ghiaccio. Molti di noi sono scivolati sul ghiaccio almeno una volta nella vita. Quando si perde l'equilibrio è difficile rimettersi in piedi. Ma il video di quest'uomo ci ricorda che anche fermarsi e cadere non è poi così semplice. Guardate come scivola sul vialetto gelato e comincia a correre sul posto per non rovinare a terra, traballando sulla lastra di ghiaccio. Sembra il personaggio di un cartone animato. Se avesse dovuto raccontare quell'incidente ai colleghi senza prove visive, nessuno li avrebbe creduto. Per fortuna il suo amico lo ha ripreso col cellulare, realizzando un filmato che nessuno dei due dimenticherà mai. Numero 12. Xilofono nel bosco. Nel cuore di una foresta giapponese rigogliosa, un gruppo di musicisti e falegnami ha progettato uno strumento straordinario. Sospeso sui rami di decine di alberi, questo xilofono magico è composto da centinaia di parallelepipedi di legno di dimensioni diverse. Dopo aver montato lo strumento, gli artisti hanno rilasciato una palla di legno grande quanto una pallina da ping pong sulle assi, ricreando una melodia del pianista Bach al centro di una radura. Il movimento discendente della pallina è stato filmato per chiarire la sua interazione con le assi e la nascita delle note. Come reagireste se sentiste suonare lo xilofono durante una passeggiata nel bosco? Numero 11. Mago del biliardo. Ecco un altro video che vi lascerà a bocca aperta. L'Orian Kohler, detto Penom, è un mago del biliardo. Delle sue acrobazie con la stecca non venissero filmate. Nessuno crederebbe racconti di chi ha la fortuna di vederlo giocare dal vivo. Le angolazioni che usa per riposizionare la stecca e il modo in cui manovra le palle sul tavolo denotano un'abilità magistrale che sembra quasi magia, ma è solo bravura. Numero 10. Falso invalido. Quando la gente vede questo cane che zoppica per strada, si ferma sempre ad accarezzarlo, per dargli da mangiare e tenergli compagnia. Pochi sanno che il cucciolo in realtà è un artista della truffa patentato. Delle persone sono riuscite a filmarlo in gran segreto, rivelando che il cagnolino zoppica soltanto quando è in presenza di altri esseri umani. Il suo metodo per attirare coccole funziona benissimo, perché pochissimi sanno che è solo un falso invalido. Se non aveste avuto il video a disposizione, probabilmente non avreste mai sospettato del suo piano diavolico. I cani vengono sempre descritti come animali onesti e innocenti, ma anche loro nascondono un lato oscuro. Numero 9. Invasione di campo. A tutti piace guardare uno spettacolo di cagnolini, ma di solito questi eventi si svolgono in luoghi specifici, recintati e aperti ad un numero limitato di persone. Quando lo spettacolo si manifesta sotto forma di invasione di campo, è facile che gli spettatori restino senza parole. Questi tre cani hanno fatto incursione in un campo da calcio senza avvertimento e le videocamere hanno seguito fedelmente tutti i loro movimenti, realizzando un filmato simpaticissimo. Sembra quasi che i cuccioli sappiano di essere nel torto, perché scappano a gambe levate dagli agenti della sicurezza che li inseguono tra le risate dei calciatori. Voi che avreste fatto al posto degli spettatori? Numero 8. Limbo. Qual è il vostro record nel limbo? Reste in grado di passare sotto una macchina? O magari 20 macchine consecutive? Questa bambina di 7 anni ha stabilito un nuovo record mondiale di skating limbo, ovvero un limbo sullo skateboard. Quando è scivolata sotto 20 automobili senza perdere l'equilibrio. Guardate come sfreccia è veramente bravissima. Per noi che fatichiamo a passare sotto un'asta alta un metro, le sue prodezze sono davvero strabilianti. Numero 7. Faida col raccatta palle. Come vi sentireste se poste nei panni di un portiere professionista alle prese con un raccatta palle indisciplinato? Quando il raccatta palle si è rifiutato di riportare la palla al portiere tra i due, si è venuta a creare una faida che i cameraman non hanno esitato a filmare. Il portiere ha recuperato da solo la palla calciata fuori aria, ma invece di rimetterla in gioco l'ha lanciata mirando alla testa del raccatta palle con tutta la forza che aveva in corpo. Vi sembra una reazione giustificata? Ditecelo nei commenti. Numero 6. No alla guerra. Come se gli ultimi due anni non fossero stati abbastanza duri per il pianeta. Nel 2022 la Russia ha dichiarato guerra all'Ucraina, dando origine ad una nuova ondata di sofferenza e devastazione. Molti paesi si sono dichiarati a supporto della nazione invasa e hanno espresso la loro opinione riguardo alla guerra in generale. In tutto il mondo le luci di tanti monumenti simbolici sono state spente in segno di protesta, ma la Corea del Sud ha partecipato al movimento a modo suo. Il governo ha spedito in cielo centinaia di droni che hanno creato un'immagine 3D che diceva No War, no alla guerra. Numero 5. Delfini robot. A tutti piacciono gli spettacoli di delfini. Magari da piccoli anche voi sarete andati in un parco acquatico o un acquario per ammirare questi animali vivaci e intelligenti, per poi crescere e rendervi conto che tenerli chiusi nelle vasche è una vera cattiveria. Alcuni però sostengono che gli spettacoli aiutino il pubblico a comprendere meglio la natura degli animali. Per la nuova Zelanda la soluzione a questo dilemma sono stati dei delfini robotici. Creazioni costose e molto più realistiche di quanto potreste immaginare, che lasciano i veri delfini liberi di nuotare in mare. Numero 4. Gatto assetato. I gatti sono animali estremamente intelligenti, ma a volte molto dispettosi. Quando desiderano qualcosa non si fanno scrupoli a usare scorciatoi ingegnose per raggiungere i loro obiettivi. Anche se lo sappiamo, i loro comportamenti più strani ci prendono comunque di sorpresa quando abbiamo la fortuna di osservarli dal vivo. In questo filmato, un bel gatto rosso è fermo accanto ad un distributore d'acqua fresca e abbassa la leva per abbeverarsi come se fosse un umano. Guardate come beve con gusto. Numero 3. Pizza a domicilio. Quando questo fattorino si è presentato al lavoro quella sera, non si sarebbe mai aspettato di ricevere un ordine da parte di un cliente poco umano. Il ragazzo si è presentato all'indirizzo specificato durante l'ordine, proprio come aveva fatto centinaia di altre volte nella sua vita. Ma si è ritrovato davanti ad una scena sconvolgente. Il momento incredibile è stato ripreso dalle videocamere di sicurezza nell'edificio. Quando il fattorino ha bussato alla porta, ad aprire è stato uno scimpanzé vestito di tutto punto. Per di più in piedi su due zampe. Se fossimo stati nei panni del fattorino, non sappiamo proprio come avremmo reagito. Numero 2. C'è posta per te. I cani sono affettuosi e intelligenti, e alcuni padroni si approfittano delle loro abilità per alleggerire il peso di alcuni compiti quotidiani che possono relegare ai loro cuccioli. In questo caso, questo padrone ha sfruttato perfettamente la voglia del suo cane di rendersi utile, insegnandogli a ritirare la posta dalle mani del postino e a consegnarla al suo umano. Stavolta è stato proprio il padrone a filmare la scena, per vantarsi del suo cucciolo sul web. Numero 1. Ospite inatteso. Quando queste persone sono uscite in barca per prendere il sole in tranquillità, non si sarebbero mai aspettate di ricevere la visita di un ospite indesiderato. Un drone in volo in mare aperto si è avvicinato alla barca privata su cui alcune donne stavano prendendo il sole. I loro compagni non sono stati affatto contenti della presenza del dispositivo e l'hanno cacciato in malo modo. Voi che cosa avreste fatto al posto loro? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.